Benvenuti in questo fantastico video Vai Omar Vaffanculo vita di me Con questa roba in testa è difficilissimo giocare Il nostro batti 5 No dai, non voglio fare un video Ma tanto non lo carico Dio No, ti sei spostato in sinistra Arisma Ancora No Vai Henry Vai brandati Passa dietro Non ha limite, fate solo 9 Non lo so, vuole prendermi per mano Cazzo questo roba che do No Isma qui 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 Oh, da 3 Nice 3 a 0 Oh È loro Isma Is gang L'hai toccata col piede dall'ultimo 2 Let's go Anche se non sei della mia squadra Quanto? 2 3 a 2 3 Dai dai, vai avanti Nostra Vai branda Nooo Nooo È fuori? No Nooo Stavo per cadere Nooo Stavo per cadere Vai Devi partire da questa parte A 30 Nooo Nooo Vai Isma Nooo Vai 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 eric Vai avanti No La voglio fare Eeeh, Arden Vai Vito cambia, quanto è? Ragazzi ora vedrete come gioca il maestro Ecco, è strafesante, adesso so che c'è il video Vai esce Sì Anche il breaker Nooo, che schifo Anche sei dentro? Dai ma faglielo fare Sono bloccato È diventato wrestling ragazzi Dai dai, prenda, graffialo, graffialo Per poco Non inciampare vecchio E immaginarti una parabola, capito? Quindi laggiù puoi tirare 6 a 5 6 a 5 No, non vale, non vale Perché? Perché ha toccato il ferro Vai Grande Breda! 6 a 6 Fammi fare un po' di content Un secondo E' un altro 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 Lo dicevo da lì Questa, chi sei? Eh ma il piede ragazzi è bravo Non l'hai chiamato Cosa? Come fare il fenomeno? Non ti tocca affrontare tutti io Roschi Oh! Vai furendo Furendo! Guardate! Scusate Con la contone nuova di merda Harry! No, no, cos'era? Dai, non esiste, cos'era? Eh, era buono, ma hai dato un check? Vale? Eh Ah non è Ma non è Ma la scuolina, non ti lo faccio Oh! Eh! Eh! Oh! Nooo! Dai, Shaquille Dai, vieni Oh, vieni Vieni, vieni Vai, vieni Sì! 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 Pietro! Albero! Albero! Questo l'ho chiamato! No, no, no Vai! 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 No, non è vero! Qua, 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 qua! Guardami, guardami! No! In prova! No, devi uscire! No, che schifo! Faccio schifo, ragazzi! Ma va bene! Ce lo sta facendo! Sì! È un mostro! Sì! Dobbiamo toccare meglio! Vado via! Vado via! Due! Sì! Dai! Dai! Bravo! È ancora dentro! Visto! Risma! 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 No! Vito! No! Non è vero! L'azzo! è buona tirala qua dai montagna ti sei fatto male anche te tu sei in testa di cazzo negro mi sei saltato sopra negro tu mi hai schiacciato niente vito voglia vedere se c'è una pantanella guarda è gonfissimo questo video finisce qui lasciate un like un commento e iscrivetevi a boia channel